parametri x, y e z e un parametro in lunghezza è 200.000 metri, gli altri due sono 1 e 1 e sono tutti metri, 200.000 due metri sono i metri necessari per identificare il volume unitario elettromagnetico e questa è una componente, è la componente che qualifica il volume, ma qualificata la presenza di volume noi abbiamo anche che abbiamo una massa in avanzamento, la massa a cosa l'abbiamo ridotta noi quando l'abbiamo riferita come un chilo alla decima parte in linea del metro, ossia un decimetro cubo, l'abbiamo riferita alla millesima parte del metro cubo, quindi noi stiamo usando in principio un millesimo per calcolare il volume come 1 e perché 1 è dato da mille millesimi e quindi quando noi abbiamo una unità fatta ai millesimi abbiamo mille millesimi, questa è la vera unità, mille millesimi avanzano in sei versi, 6 per mille millesimi sono 6.000 millesimi e quanti sono nel loro totale? Se sono 6.000 sopra e 1.000 sotto e sono tutti metri, sono 7.000, quindi per descrivere la massa in movimento di masse millesime noi dobbiamo averne 7.000 e quindi il secondo valore da aggiungere al primo che era 200.002 è ora di 7.000 che è contenuto nella massa millesima, che cosa manca alla luce? Una volta che abbiamo descritto il movimento che voi vedete espresso così, manca la visione per così, quella frontale, quella dell'intensità della luce, ossia la massa di luce che vi viene addosso, lui vedendola passare così la vedete traslare lateralmente, questa massa non vi investe, la massa vi investe solo se vi viene addosso, se vedete una massa di un'automobile passare che non vi investe voi non la sentite, voi la vedete solo muoversi, per sentirla vi deve venire addosso, ossia l'intensità della forza di quella luce, quindi voi l'avete solo nell'intensità unitaria della luce, abbiamo visto che era 540, e in realtà quando abbiamo una candela, la candela è esattamente unitaria in 540 volte 10 elevato a 12 Hz, ebbene, quando invece di questa unità data da 10 elevato a 12 Hz noi mettiamo un metro, perché il metro è l'unità del nostro riferimento, credete che non siano forse ancora 540 metri? Ecco allora che l'unità nell'intensità unitaria è 540 metri, aggiunti come terzo valore abbiamo espresso ogni cosa, come? 200.002, quanto c'è in metri per descrivere il volume, 7.000 per descrivere l'avanzamento unitario di 6.000 millesimi e il valore di intensità di 540 metri, il totale è proprio il 207.542 che manca alla unità della luce, come vedete i calcoli che io mi sto facendo sono perfetti, sono dimostrati da esperimenti quali la misurazione reale della rotazione terrestre, la misurazione reale dentro quella dell'anno, dentro quella del sistema solare intorno al buco nero intorno al quale si muove il sistema solare dentro la nostra galassia, quindi quando coesistono tutti questi valori e si sommano l'uno all'altro e noi abbiamo il valore di un anno che si presenta come 365 giorni, 9 minuti primi, 9 minuti secondi, alias 549,54 secondi, noi stiamo considerando un riferimento totale e allo stesso modo che facciamo un riferimento totale con ciò che esiste nella luce, noi sommiamo e perché mai noi sommiamo? perché vedete tutti questi valori che noi abbiamo sono indici, i numeri che stiamo noi usando nel sistema del decimale sono tutti figli del ciclo 10, tutti, perché? Perché chi li realizza è il ciclo 10, come facciamo a realizzare per esempio il valore 0? Noi prendiamo 10 elevato a 0, 10 elevato a 0 sapete che è uguale a 1 e facendo il logaritmo decimale di 10 elevato a 0, noi praticamente mentre abbiamo lo 0 che si poggia sul 10 attraverso il logaritmo decimale lo togliamo di mezzo, ossia stiamo ricorrendo quando usiamo il logaritmo decimale alla funzione inversa, è il solito sistema che noi attuiamo ricorrendo sempre come principio alla funzione inversa per misurare poi con il suo opposto il valore che lo rende unitario nel tempo e attraverso questo abbiamo che il logaritmo di 10 elevato a 0 è uguale a 0, il logaritmo di 10 elevato a 2 è uguale a 2, il logaritmo di 10 elevato a 3 è uguale a 3 e vedete che questi valori ricorrono alla funzione inversa logaritmica decimale di un valore posto in presenza di 10 in atto e quindi noi attraverso il logaritmo decimale di un 10 elevato togliamo di mezzo il 10 elevato e ci riduciamo solo al calcolo delle volte, ossia a tutto quello che viene dopo la presenza come le volte del movimento puro della presenza così facciamo anche nei calcoli totali e generali per cui vedete bene che in questo modo noi abbiamo che in riferimento alla velocità della luce noi abbiamo davanti alla velocità della luce il corpo ammassato che sempre quello è e avanza per un secondo, per due secondi, per tre secondi quando avanza per tutti i secondi contenuti in un giorno quella presenza lì ha realizzato l'intero volume della terra nella sua rotazione intera quando passano tutti i tempi che devono passare sono tempi che esistono e sono sempre portati in atto sempre da quel quantitativo unitario di riferimento lì dato da 207.542 il quale per raggiungere l'intero praticamente assume velocità a mano a mano che noi passiamo da un ciclo a quello successivo dal ciclo del secondo al ciclo della massa terrestre per passare dal ciclo del secondo al ciclo della massa terrestre il valore unitario della massa unitaria della luce ossia quella descritta da 207.542 metri deve esistere per tutti i minuti secondi 86.400 necessari e per tutto l'universo quando noi facciamo esistere questo valore base all'infinito noi abbiamo anche la presenza unitaria di un infinito unitario riferimento universale composto da infiniti infinitesimi e come vedete attraverso questo sistema di riferimento noi abbiamo definito esattamente ogni cosa e io ve l'ho descritta bene se mi sembra descritta male è forse solo che sono concetti così nuovi che voi vedete di fronte che appena risentite non vi sembrano giusti ma meditateci con attenzione e scoprirete che io ho ragione mentre Albert Einstein dava per solo costante la velocità della luce io sto considerando anche l'unità che si muove con quella velocità lì e quella parte che si muove il corpo che si muove non segue le leggi della velocità non è condizionato alla velocità altrimenti amici esisterebbe solo per un secondo il fatto che esista per più secondi fino agli infiniti secondi esistenti in una esistenza infinita significa proprio che per esistere tutto l'universo nel suo insieme altro che la velocità della luce deve avere quel 207.542 deve avere e lo può avere perché realmente tutto questo che esiste nella realtà delle cose e lo abbiamo visto ma lo vediamo solo in movimento è una massa che non ha niente a che fare poi con il suo movimento e noi se pensiamo che una massa sia condizionata nel suo massimo modo di essere veloce dalla velocità della luce crederemmo che praticamente l'unità della massa può raggiungere solo la velocità della luce e non oltrepassarla quindi la velocità della velocità significerebbe cari amici che avremmo soltanto esistente un secondo e invece vedete che di secondi ne abbiamo tanti e se sono tutti unitari quelli che noi vediamo fino a essere infiniti infinitesimi sono sempre condizionati alla stessa mazza unitaria che ha una velocità che è sempre superiore a quella che esiste unitaria nell'unità che noi abbiamo stabilito arbitrariamente ma secondo una logica impeccabile perfetta in 3 per 10 a 8 volte il valore uguale contrario posto nei metri